Ora che tutti avete visto quelle bare, noi ci aspettiamo che qualcosa cambi, non deludeteci per favore. È l'appello di Giusy Nicolini, sindaco di Lampedusa, ricevuta oggi insieme al governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, al Parlamento europeo. Un appello che stavolta l'Europa non ha lasciato cadere nel vuoto. Bisogna salvare vite umane in mare in base ai principi di soccorso e di equa ripartizione di responsabilità. Sono le parole chiave del documento che il Consiglio europeo di Bruxelles si accinge ad adottare sul tema dell'immigrazione. Le parole che fanno dire che l'Italia ha vinto la sua battaglia. La ripartizione delle responsabilità di tutta l'Unione europea sull'immigrazione era la bandiera con cui Enrico Letta si presentava in Belgio. L'immigrazione che nell'agenda del Consiglio era entrata proprio grazie alle pressioni del governo italiano e sull'onda emotiva delle tragedie di Lampedusa. I 28 quindi ammettono che bisogna agire in comune anche rafforzando gli strumenti già esistenti per il controllo del Mediterraneo, cioè in pratica l'azione di Frontex, l'Agenzia europea per la sorveglianza delle frontiere. Ma non solo. Si parla di continuità dell'agenda comunitaria sul tema dell'immigrazione. Non verrà affrontato in questi giorni e poi abbandonato, ma l'Unione si impegna a tornarci sopra per un primo bilancio delle iniziative, nel Consiglio dei Ministri degli Interni di inizio dicembre e nel Consiglio europeo di fine anno. E poi c'è un punto di grande importanza, quello destinato potenzialmente a rivoluzionare forse l'intero fenomeno della migrazione, cioè la cooperazione con i paesi terzi, affrontare il tema alla radice con l'intera Unione che deve impegnarsi a collaborare con i paesi di origine e di transito della migrazione illegale. Lo aveva ribadito sempre stamattina Rosario Crocetta. Frontex in questi anni ha fallito perché noi abbiamo migliaia e migliaia di morti che hanno trasformato il Mediterraneo in un clato di cimitero. Noi dobbiamo compiere filosofie.